Buongiorno, Brenta Sicuro e Legambiente Sarmazza continuano il viaggio con i primi cittadini per chiedere loro dell'idrovia Padova Mare. Oggi è l'11 marzo e siamo a Legnaro con il sindaco Giovanni Bettini. Sindaco, il progetto idrovia prevede il completamento dell'opera a salvaguardia dell'alluvione del Brenta e Bacchiglione. Con navigazione di classe europea quinta. Quale importanza, secondo lei, l'opera dal punto di vista della sicurezza idraulica? Guardi, da tempo se ne parla di questa idrovia per la produzione di massina di illuminazione per evitare l'esoluzione della Brenta e del Bacchiglione in particolare per noi che evita l'importanza. Ogni volta che piove tanto, negli autunni, inverni e via discorrendo, corriamo rischio di sotto acqua. A Legnaro abbiamo un sito a Gripolis dove è molto importante perché in quel sito ci sono due facoltà universitarie, veterinarie ed agraria, abbiamo altri istituti di importanza europea come l'Istituto di Fisica Nucleale e quindi i danni che provocarebbero la salvaguardia del Bacchiglione sarebbero immensi. Quindi riteniamo l'opera di estrema necessità. Dal punto di vista ambientale invece cosa dice? Dal punto di vista ambientale di conseguenza viene anche a diminuire l'emissione di CO2 nell'atmosfera e questo soprattutto in previsione del 2020 che abbiamo questo obbligo tutti quanti di arrivare al 2020. E dal punto di vista della navigazione da di porto, soprattutto commerciale? Beh, io credo che anche questo, visto il momento di crisi che stiamo attraversando, tutte le iniziative volte a incrementare l'attività industriale e quant'altro servirà a mettere in moto l'economia del nostro bel Paese. Cosa si sente di dire ai detrattori dell'opera? Beh, i detrattori dell'opera secondo me dovrebbero farsi un esame di coscienza molto approfondito perché vuol dire che non conoscono i rischi che corriamo se quest'opera non verrà fatta. Siamo coinvolti in tantissimi comuni, quindi tantissimi sindaci. I sindaci sono in prima linea, quindi sentono per primi le problematiche del territorio. Secondo noi quell'opera deve essere fatta perché serve al territorio. Dobbiamo aspettare che le piogge provano danni, mensi, che poi non siano neanche in grado di riparare. Quindi bisogna prevenire. Questa è un'opera che va fatta. Quindi a suo avviso i sindaci vanno coinvolti? I sindaci, io credo, sono le prime persone che devono essere coinvolte. E quando c'è l'alluvione il sindaco deve andare dappertutto per soccorrere i suoi cittadini che sono stati dannezzati da Rubinoni. Per quanto riguarda il finanziamento dall'opera, cosa dice il sindaco? Beh, io credo che se l'impegno sarà di tutti e nella stessa maniera sindaci, assessori regionali, ministri e quanti altri riusciremo a trovare i finanziamenti sul campo. Credo che si vuole da buona volontà. Io, per l'esperienza che ho, posso dire che se ci impegniamo a fare qualcosa, a fare un'opera, va fatta. Perché siamo convinti che serve. Bene, grazie sindaco. Grazie. Sì, voi. Grazie. Grazie. Grazie.